Mi ha perduto il mio caro Non salite con me Non salite con me No raga mi è stato inseguire tutti i suini Non vinceremo mai No 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 Eh si Come possiamo fa? Io non lo so vi giuro Oh spara 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 Mi sa che l'ho ucciso Ho ucciso No No raga è strano stelle TS però eh Round perdente prossimo round Ok Nuo round Questo round sono sicuro che lo vinciamo Allora Andiamo 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 Che sta a far suino grandissimo Col potere Allora Ce ne andiamo per di qua Non me chiudete Occhio raga c'è un suino Che sta per rimanere trollato Levate sui Spostate Sto schiacciando le gambe No Ok qua c'è una bella ruiner Mi dicono eh Dove sta? Dove raga? No Qui non c'è Eccone una Eccone una raga Devo fare il giro eh Aspettate Aspettate che mo li fregamo Eh sui Guy killer Allora Andiamo 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 Che poi non ho capito Perché se uccidete questi Vi da pure l'uccisione Nell'LTS Allora Che poi teoricamente Non ci dovrebbero essere persone Negli LTS Solo nelle catture Non si capisce il perché eh Allora Dove possiamo andare di bello? Guardate un po' la scimmietta Comunque si abbiamo vinto Round vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Io non ho capito Se bisogna uccidere Gli zombie Perché non so se avete visto Che stanno pure gli zombie E le scimmiette E magari se ne uccidiamo Tanta gente là È come se ci dà Al giocatore Perché nell'LTS Vedete? Uccidiamo tutti questi E secondo me possiamo vincere Se facciamo così eh Potrebbe essere Di sì Dove stanno altri? Eccoli qua Non lo so raga Io ci sto provando eh Perché li conta come giocatori L'LTS ho visto Guardate quanti sono là Corri 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 Ok Così a fine schermata Cioè a fine round Scusate Vi faccio vedere Quanta gente ho ucciso E li conta come giocatori reali E quella è la cosa assurda Aspettate Voglio uccidere Brunker armato Eccoli qua Eccolo qua Di nuovo guy killer trollato Sì sì L'abbiamo pure fatto secco E questo? No 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 Aspettate 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 Spara 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 Eh regà Bisogna scappare qua eh Meglio andarcene Però è andato bene Questo round eh Uccidiamo a questo Che vale Oh scusa sui No no Annaggia Anthony Ok Vediamo un po' cosa esce Round perdente Però vedete Ho fatto 20 kill Perché ha contato Come giocatori Però si vede Che non è così Purtroppo Peccato Ok Nuo round Andiamo andiamo Peccato che abbiamo iniziato Dalla parte della ruiner Perché se avevamo iniziato Dalla parte Del che era armato Guardate quanti poteri Grandissimi Però dobbiamo andare adesso Sui Attenzione Mannaggia a te Levate Spostale sui No 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 regà Da dove arrivano No Ah ah No regà Li ho uccisi senza Che neanche me ne so accorto Oh 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 Sui Dove pensi di andare Qua ce n'è un altro Guy killer Mori 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 Ok Praticamente è venuto Da me No 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 Ricavate lo secco Ok Guardate che carina La scimmiettina qua Allora Andiamo Dove stanno gli altri Mi sa che abbiamo vinto Sì Credo di sì Aspetta spariamo la scimmietta Non c'è la scimmietta Qua che c'erano Le scimmie I cani Round vincitore Prossimo round Ok Nuo round Io forse Credo che Bisogna farlo in full lobby Non lo so eh Oh sui sali No 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 Così non va bene Dobbiamo prendere ognuno Una macchina Perché se no Non ce la facciamo a vincere Ok finalmente Oh ma che stanna fa Ronald Da dove esce fuori Io non l'ho visto Manco che entrava Allora Mettiamo i missili Dove Ok Là c'è il car armato Mi sa eh No 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 Sui non mi spingete qua Allora Andiamo di qua È rischioso Ah aspettate Giovi 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 Oh oh Aiuto Un black tiger No 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 Devo fuggire Ok no Partita perdente Tranquilli che lo riavviamo subito In full lobby Ok Eccola qua la full lobby Guardate quanti suini L'altra squadra invece Ci stanno dei suini Stanno là dietro No no Ce ne stanno un bel po' Rega guardate Uno due tre Quattro E cinque Eh rega purtroppo Non credo che sarà vinto Questa LTS E di nuovo che partiamo Dalla parte Delle ruine Rega non ci voleva Perché Oh Com'è salito Sui no no Sali 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 Sbrigate Dai Dai Perché se partiamo Dai cararmati Era stravinto Mannaggia Poi non vi dico Quanto sta L'agga No no Il primo amore Non voglio essere io Me ne vado Proprio via Ok Eh rega E' tosta E' tosta Non è così No dai Mannaggia Eh rega Sono durati Tanto Quelli della mia squadra Secondo me Non è così Equilibrato Per Per le Ruiner 2000 Round perdente Prossimo round Ok Nuo round Peccato che non partiamo dai cararmati Peccato Cioè siamo partiti adesso Però a me serve partire dal primo round Allora Andiamo Io ho visto prima i cani Oh sui non me do io lo strada Spostate Spostate Andiamo Questi qua ruiner proprio Devono morire Dei proprio Mori Ok Ma è troppo fa Uh Aspettate che Sono pericolosi anche Però non è che potranno fare più di tanto Dove sta Eccolo Ronald che spicca al volo Vediamo se va lì No Ok Ma sono già morti Rega Io praticamente Avrò fatto solo una kill Perché se le so fregate Oh guardalo Non l'ha visto nessuna Le corra Stava là sopra Nascosto Eh niente Abbiamo vinto Però devo andare a trovare Questi cani Spostatevi Voglio andare a vedere Sti cagnolini Che ci stanno Li ho visti prima Erano là Tipo Round vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Io mi voglio andare a trovare I cagnolini Perché sono sicuro Di averli visti Vi giuro Che ho visto i cagnolini E non me li sono inventati Dove stanno Eccoli Eccoli qua A me me ne frega niente Tanto morirò Sicuro al 100% Andiamo a vedere un po' Sti cagnolini Eccoli qua Raga Facciamo pure un potere Ah Se io mi nascondo a radar Potrebbe essere Che non ci vedono Aspettate No No Non uccidete i cagnolini No Me l'hanno uccisi tutti quanti Chi è questo qua No Raga Tutti i cagnolini Ci hanno ucciso Ancora non ci hanno ucciso A noi eh Oddio Chi è questo Non lo so Però siamo ancora vivi Stranamente Andiamo sui Dobbiamo scappare a piedi Via 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 Dobbiamo fuggire Non ci devono beccare Andiamo No Come sono morto Eh purtroppo raga Non è un LTS Che va a braura Va a fortuna Partita vincitore No raga Aspettate Come è possibile No 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 Non me lo dovete spiegare questo eh Abbiamo vinto Fatemi un attimo la classifica Non lo so raga Cosa è successo eh O quelli della mia squadra Hanno fatto la strage di cari armati O è crashata tutta la seconda squadra Ci sta la seconda squadra Si No raga Sono morti tutti Ah no Sono crashati tutti Mi sa che erano crashati eh Non ci ho capito niente Ogni volta che finisco l'LTS Entro nell'attività Per fare la miniatura Ma guardate I cagnolini qua Vi inseguono Vi giuro Se non avete le mod Scaricatevi questo LTS Perché vi inseguono i cagnolini Guardate le corda Che spettacolo È un LTS Vi giuro Non lo so il creatore Come ha fatto Però sti cagnolini Sono pure amichevoli Ci inseguono pure Però dovete andare prima vicino Aspettate Vediamo se ci insegue Shop No Shop Non ci vuole Lui forse si 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 Vieni 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 qua Non lo so ogni tanto Guardate Dale Corra proprio Si è affezionato Per cagnolina Dale Corra Ok Eccolo qua Guardate che spettacolo Vieni vieni Ci andiamo a fare una bella passeggiata Vediamo fino a dove arriva No no Che spettacolo Però se era il suino era meglio Però pure il cagnolino Regà è perfetto Va più che bene Vieni Vieni sui No no regà Troppo bello Scaricatevi questo LTS Se dovete fare magari Un filmino con Rockstar Editor E non avete magari il PC Con le mod Potete fare benissimo così Peccato che c'è solo questo LTS Perché se era in strada Era meglio diciamo Comunque sia Se vi è piaciuto questo LTS Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Saluti questi suini Bella Here's what we are now It's been to you Grazie a tutti. Grazie a tutti.